Sono molto emozionato dal posto. È la mia prima volta come un fashion designer, quindi mi piace un sacco. Non ho mai fatto una cosa del genere. Dopo tanti mesi di lavoro ci siamo e questo è il nostro momento. Non riesco neanche io a capire i sentimenti che sto trovando. Hashtag ansia. Io in realtà vorrei che non finisse mai questo giorno. Non vedo l'ora di vedere i miei capi in passerella. Spero che vi piaccia lo show. Godetevi la sfilata. E godetevi lo show. Vedo presto presto. Vedo presto. Vedo presto ACANO. Grazie a tutti.